Amici di TG Events, oggi vi parliamo dell'opera teatrale di Arthur Schnitzler, Il Girotondo, e ne parliamo proprio con il regista Francesco Branchetti. Qui siamo sul letto protagonista del Girotondo. Il Girotondo è un testo a mio avviso straordinario che ho sognato di mettere in scena per anni, fino ad arrivare a questa possibilità che mi è stata offerta dal Teatro Garage e da Lorenzo Costa. È uno spettacolo in cui Gaia De Laurenti si interpreta tutti i personaggi femminili e questa è una scelta che nasce anche dal voler fare uno spettacolo sulla donna, sulla condizione femminile. Siamo con Gaia De Laurenti, sono ormai da anni immersa nel mondo teatrale per questa opera molto impegnativa. Fai praticamente tutti i personaggi femminili? tutte e cinque le donne, sì. Qual è il personaggio che ti piace di più? Ma intanto il fatto che siano cinque ha un suo motivo di essere preciso e il desiderio del regista è quello di mostrare come in realtà si tratta di un'unica donna e delle esperienze di una donna attraverso gli uomini. Per cui vari modi di essere ferita, colpita. Sono dieci incontri, cinque uomini e cinque donne si intrecciano gli incontri amorosi dove finisce in un rapporto fisico laddove la donna, ben contenta del rapporto, quasi sempre, perché a volte è anche violentata come il caso della cameriera nella primo episodio, però comunque capace di instaurare e desiderosa di instaurare un rapporto affettivo. E l'uomo sembra incapace, quasi sempre. Il poeta invece sarebbe più pronto, però di fatto non si arriva mai a una comunicazione vera, a un rapporto d'amore che nasce. E' uno spettacolo che io definirei addirittura vado oltre femminista o femminile perché gli uomini ne escono male, le donne in qualche modo si capisce che già allora venivano sfruttate come capita spesso magari in un modo diverso anche oggi. Grazie.